Lazio, le radici cristiane di Massimo Onofri. Sarà perché il colle di San Lorenzo, dove ora si ergono il Duomo e il Palazzo dei Papi con la sua loggia, è uno dei luoghi ricordati nella donazione di Sutri tra i possessi che Liutprando promise alla chiesa nel 729 e che tale restò a lungo. Sarà per il fatto che nel 1164 il Barbarossa fece di Viterbo la sede dell'antipapa Pasquale III. Sarà pure per la ragione che, nei primi anni del 200, la città divenne focolaio dell'eresia catara e come tale scomunicata. Sarà perché Federico II nel 1240 la consegnò ai Ghibellini, i tignosi oriundi di Magonza. Sarà perché si ricorda che nel 1243 la popolazione sollevò resistendo al suo assedio. Sollevazione che la geografia vuole ispirata da Santa Rosa. La santa bambina, mite e guerriera, nata priva di sterno, è morta a soli 18 anni dopo molti miracoli, non senza aver previsto esattamente l'atroce fine del negletto e ateo imperatore. Sarà che dal 1257 e fino al trasferimento ad Avignone Viterbo rimarrà più o meno continuativamente sede papale, conducendo istancabile guerra contro gli svevi, culminata nella scomunica di Corradino. Sarà, infine, perché morto Clemente IV, a causa del ritardo quasi triennale dei cardinali che dovevano eleggerne il successore, il popolo viterbese poco devotamente insorse, niente meno che sul consiglio di San Bonaventura di Bagno Reggio, sotto la guida del capitano del popolo Raniero Gatti, il quale fece chiudere a chiave i cardinali stessi nella sala dell'elezione. Clausi conclave, era nato il conclave, a pane e acqua, non senza far scoperchiare il tetto per lasciarli in balia delle intemperie, finché non avessero eletto il nuovo Papa. Sarà, insomma, in forza di tutti questi motivi, e molti altri ancora, di questo magma ribollente di sentimenti e risentimenti, di devozioni furiose e odi nefaste, che il passeggere, arrivato a metà di via Mazzini, proprio davanti al palazzo della provincia, potrà forse spiegarsi quella specie di doppia intitolazione della piazzetta che, oggi, porta il nome del viterbese Mario Fani, il generosissimo fondatore del Circolo Santa Rosa e del nucleo originario della futura azione cattolica, morto nemmeno 24enne per salvare un bagnante che stava annegando. Subito sotto la targa attuale, resta ancora vigile la precedente, appena annerita dalla vetustà, con sopra incise le generalità del martire cui la piazza era stata, con foga anticlericale, a suo tempo dedicata, e cioè il Giordano Bruno ucciso dalla Santa Inquisizione. Ci piaccia o no, è stato questo il periodo storico di maggiore gloria e prosperità di Viterbo, quando la sua popolazione, in certi momenti, ha sopravanzato, e non di poco, quella di Roma. Momenti che si sono tradotti nel sistema di monumenti di un medioevo rigoroso ed essenziale, sobrio e austero. Mi viene in mente, a questo proposito, un romanzo giovanile di Vitaliano Brancati, ambientato proprio a Viterbo. Nello stesso anno in cui il regista Alessandro Blasetti, restituendoci gli stessi colori e la stessa fosca, se non tetra, maestà della città, ci ambientava quell'incredibile film sul primo squadrismo fascista, che è, soprattutto fotograficamente, Vecchia Guardia. Il romanzo si intitola Singolare avventura di viaggio ed è del 1934. Brancati vi sostiene che, ancora in quegli anni, Viterbo appariva non come una rovina o un'antichità, ma alla stregua di un cavere del medioevo, coi piedi ancora sudati. Quasi inutile aggiungere che, se si prescinde dai secoli etruschi, gloriosi, estruggenti e però troppo remoti e ormai incomprensibili, sollevati a leggenda antropologica da un poeta come Vincenzo Caldarelli, della vicina e non amica Tarquinia, e senz'altro il 200 che ha fornito a Viterbo la sua inconfondibile fisionomia di peperino, la sua indimenticabile ed elegantissima architettura di Profferli, le aeree scale esterne, che culminano in un ballatoio sostenuto da un'arcata, la solide duratura e bellezza delle sue case patrizie, guelfe o ghibelline che fossero. E non penso solo alla loggia di piazza San Lorenzo, con quell'incredibile intrecciarsi d'archi sostenuti come per gioco da esilissime e leggiadre colonine ebinate, o al notevole palazzo degli Alessandri, il cuore della nobilissima San Pellegrino, emblema dell'edilizia privata duecentesca, con quel maestoso arcone ribassato sotto cui si schiaccia il grande balcone, vigilato dalle tre torri massicce e occhiute dalla chiesetta romanica che dà il nome al quartiere, di fronte alle scalinate cui fa da palco. Sono i luoghi San Lorenzo e San Pellegrino di una specie di teatro naturale, dove Viterbo celebra ancora i suoi riti quotidiani di riconoscimento. Penso anche alle case Gatti e Poscia. Quella dei Gatti, l'unica sopravvissuta insieme all'altra di Corsi Italia, ha la soppressione delle circonvicine ordinata da Papa Alessandro VI nel 1496, alta, solenne e biforata, di bellezza essenziale, con in cima a tutt'oggi un meraviglioso giardino pensile, la quale si trova nel punto di via Cardinal La Fontaine, dove confluisce, da piazza Fontana Grande, via delle fabbriche. Un tempo fervorosa di botteghe e mestieri. La casa dei Poscia, edificata all'inizio del Trecento, a sugellare splendidamente il secolo papale, che si può ammirare d'improvviso laddove, a destra, la sovrastante via Saffi si apre e poi si sgrana in una scalinata scenografica. Ma Viterbo, nel suo glorioso itinerario duecentesco, non può tacere delle sue chiese e delle tante fontane, belle come le sue donne, secondo l'adagio popolare, il cui murmure d'acque scroscianti, se fossero contemporaneamente attive, quelle fontane, come ormai non sono più, e in assenza di inquinamento acustico, come ci si trovasse in un'impossibile e medievale notte di stelle, accompagnerebbe il turista in ogni momento del suo transito, senza abbandonarlo mai da un canto all'altro della città. Dicevo della Fontana Grande, la più antica, davanti all'edificio che, sino non molti anni fa, ospitava il tribunale cittadino, quello del processo per la strage di Portella della Ginestra. La grande vasca a croce greca, lo stelo, le due tazze sovrapposte che solleva, il pinnacolo, ma è impossibile non ricordare, cara com'è ai cittadini, la Fontana dei Leoni, di Piazza delle Erbe, di tutt'altra anagrafe storica, a dire il vero, iniziata nel 1621 e completata, con le fiere di marmo, che le danno il nome, solo nel 1877, dallo scultore Pio Fedi. Quelle che, quando le loro criniere si ghiacciano, le viterbesi barbe, annunciano la città all'arrivo del gelo e della più fredda tramontana. Ma è ancora via Cardinal Lafontaine che si dovrà tornare per percorrerla tutta, a partire appunto da Casa Gatti, sino a quella piazza della morte, con la sua deliziosa fontana affuso, gli alberi refrigeranti e a sinistra la spettacolare loggia di San Tommaso, una volta aperta da un portico di rara profondità, ma oggi murata a vetro, che già guarda il ponte del Duomo, sostenuto da filari di mastodontici massi etruschi. E prima di arrivare a Piazza della Morte, però, che bisogna fermarsi, quasi alla fine di via Lafontaine, laddove sulla destra si accede a Piazza Santa Maria Nuova, così chiamata da quella chiesa già eretta nel XII secolo, col portale che non cela la testa di Giove che lo sormonta, sul cui pulpito esterno sorretto appena da una colonna, predicò vigorosamente nel 1266 San Tommaso. In questa chiesa non bisognerà mancare l'appuntamento col piccolo chiostro romanico primitivo, che riporta alla città un cristianesimo rigoroso ed essenziale, quello che già annunciava il Santo D'Assisi, e che, in Viterbo, ha un corrispettivo spirituale anche nella cripta dell'altra stupenda e più antica di due secoli, chiesa romanica, ovvero San Sisto, subito dentro Porta Romana, proprio da dove parte l'immane macchina di Santa Rosa, portata a spalla ogni 3 settembre da più di cento facchini per le vie e i vicoli bui della città, sopravanzando di molto in altezza ogni edificio, dopo aver appunto ricevuto in articolo mortis, quei facchini, la benedizione del Vescovo. Non bisogna fare molti chilometri, abbandonata questa civiltà del peperino, per trovarsi di fronte a quella di un altro prodigioso medioevo, è però scolpito nel tufo, nutritosi anch'esso degli arcani e del mistero degli etruschi e delle loro necropoli. Mi riferisco a Tuscania, che, da Viterbo, si raggiunge in circa 20 minuti di macchina. Qui, con le spalle sdignosamente rivolte alla capitale della Tuscia, si sollevano due bellissime chiese romaniche, entrambe risalenti all'VIII secolo, Santa Maria Maggiore e, più in alto, sul colle, dove forse si trovava l'acropoli etrusca, la fontosissima San Pietro. Non ingiustamente sdegnose, se è pure vero che tutte le chiese di Viterbo, compresa quella di San Sisto, che divenne presto la più ricca della città, dipesero a lungo come filiali dalla diocesi di Tuscania. Delle due chiese ciò che colpisce è la collaborazione delle epoche e degli stili, tra romani colombardo e umbro pisano, senza dire degli influssi gotici, e poi l'assimilazione disinvolta dei reperti etruschi e romani. Se è vero che, per stare alla più sfarzosa e sorprendente delle due, San Pietro, alle 28 colonne provenienti da edifici latini, che disegnano le nove navate per sorreggere le volte a crociera, può magari contrapporsi sotto la bifora sinistra del rosone il bassorilievo ricavato da un frammento etrusco, che ritrae un uomo che corre. Nessuno potrà mai mettere in dubbio, su quella facciata, l'intenzione celebrativa nei confronti degli evangelisti, o la drastica contrapposizione, in gloria del regno dei cieli e sotto il segno dell'Agnius Dei, tra angeli e demoni, santi e oscene, incarnazioni e il maligno. E però è del tutto impossibile non lasciarsi incantare da quel bestiario di insolenza euforica, quasi pagana, draghi che inseguono cani, leoni e grifi, bovidi dei più diversi tipi. S'era detto, in Viterbo, dei diversi ruoli giocati da San Bonaventura di Bagnoreggio e San Tommaso. Come evitare allora di condurre i nostri passi prima di lasciare definitivamente la tuscia sino a Bagnoreggio, che fu anche patria dello scrittore Bonaventura Tecchi? La città che muore, con le sue case sgretolate, la sua piazza e le specie metafisiche, di metafisica involontariamente dechirichiana, che un lunguissimo ponte, percorribile quasi solo a piedi, tiene legata alla terraferma. Proprio lì, sul ciglio ai limiti di un borrone, è possibile ammirare quel che resta della sua casa natale, una piccola icona che resiste affacciata sul nulla. Proprio lì, in confidenza con la solitudine che solo il vento e la pioggia possono erodere, come fanno del resto da secoli, coi basamenti cavi di tufo su cui si sorregge ormai del tutto spopolata, tra i calanchi della selvaggia vallata, l'antica civita. Per chiudere questo rapido itinerario di storia cristiana e papale, si potrebbe percorrere due strade di antipodico significato, che vanno, rispetto alla vicenda viterbese, in direzione opposta, l'una del passato remoto, l'altra del futuro prossimo. La prima risale alle scaturigini di un cristianesimo nudo e austero, operoso e antimondano, Benedettino, molto prima che Francescano, che ha la sua capitale in quel pugno di case vicino Farasabina, edificate attorno alla magnifica abbazia di Farfa, fondata nel 680, sui resti di un'altra basilica distrutta dai Longobardi. La seconda, invece, arriva fino a quel Bonifacio VIII che chiude, chissà se davvero ingloriosamente, o magari dentro una perfida bolla di calugne e diffamazioni, la storia dei papi che avevano combattuto contro gli imperatori germanici, per affermare la superiorità della sfera spirituale su quella temporale, furiosamente mondanizzandosi però, e che ha il suo decisivo epilogo in un palazzo papale di Anagni, sulla strada da Roma per Frosinone, col famoso schiaffo che a Bonifacio, al secolo Benedetto Caetani, inflisse l'odiato nemico Sciarra Colonna, il 7 settembre 1303.